La giornata è torrida, benvenuti comunque al municipale di Albenga. Claudia, bentornata. Grazie a voi di essere qua. Laura, ciao, bentornata. Grazie a voi. Avremmo voluto iniziare seduti sulla panchina. Guardate, ce l'ha occupata e lui ha il diritto di occupare, dopo aver trascorso, non dico una parte della sua vita in questo box, in uno di questi box che vedete da nostre spalle, la nostra panchina. Si chiama Tyson. Ha dieci anni, è un cane buono, buonissimo con le persone, chiaramente considerate la razza e la stazza, quindi no assolutamente altri animali, di nessun tipo, né ma né suoi simili, indipendentemente dal sesso, ma anche animali più grandi, tipo asini, cavalli, niente. Cioè lui odia tutti. Quindi anche in una famiglia con bambini ovviamente noi avremo qualche perplessità. È però un cane, lo vedete, tutto sommato buono. Poi ha dieci anni, quindi l'età sicuramente lo tranquillizza e questo favorisce. Noi siamo sempre un po' prevenuti e molto selettivi con le richieste. Perché volete il loro benessere, assolutamente. Noi vogliamo il loro bene e allora noi queste trasmissioni, queste sponsorizzazioni nei loro confronti è sempre volta a trovare ovviamente una famiglia, ma deve essere una famiglia quella giusta. Giusta, quindi se qualche volta tenteniamo e vi diciamo ma no il cane comunque ha bisogno di un percorso, il cane ha bisogno di, cioè non è un pacco postale, quindi non potete pensare né lui né altri, e questo discorso vale per tutti i cani che sono qua al nostro canile, non potete pensare di venire e portarveli a casa perché sono cani che o sono anziani e sono qui da una vita o sono comunque abituati alla vita del canile, quindi dovranno abituarsi gradatamente a una nuova figura, a un nuovo proprietario, quindi noi con calma, con pazienza, ovviamente venite, vi diamo tutto il tempo a disposizione e tutto il tempo che serve, però vogliamo che il connubio cane e adottante sia perfetto. Che l'adozione sia consapevole, il significato ve lo ha tradotto in queste parole Claudia, ma loro si meritano il vostro tempo, assolutamente la vostra attenzione e ascoltate chi i cani li conosce, chi li ha visti entrare in canile, chi li frequenta, da anni ormai realizziamo queste trasmissioni, chi li frequenta giorno dopo giorno, giusto? Sì, certo, infatti il discorso è proprio questo, noi non siamo proprio quelli che ti lanciano il cane dal cancello, perché non sono pacchi, quindi con pazienza, se avete del tempo, perché se già mi dite, ma io non ho tempo di venire a conoscere il cane, vuol dire che tempo per dedicare al cane ne hai poco, quindi non vai bene, punto. Il border, diamo un'occhiata alla scorsa trasmissione, un ringraziamento, il border sta per essere, sta per concludere questo percorso, per uscire, giusto? Veramente è già in casa, il nostro whisky è già a casa, non è ancora completata, diciamo, l'iter dell'adozione, nel senso che è ancora un'adozione provvisoria, perché noi ci teniamo sempre a un margine, perché comunque nei primi giorni, in primi settimane possono succedere anche inconvenienti, quindi whisky è andato a casa, il proprietario è venuto qui per settimane per conoscerlo, perché era un cane molto iperattivo, particolare, quindi ha veramente fatto un percorso ad hoc e speriamo che insomma tutto... Concludo dicendo poi che l'adozione sia territoriale, proprio perché la post-adozione è molto più semplice. Sì, certo, noi vogliamo comunque sempre controllare, seguire, poi per carità abbiamo dato cani anche lontani, perché abbiamo dato, non so se ti ricordi, Spino è andato in Inghilterra, però insomma c'erano i presupposti per un'adozione di quel tipo. Bene, partiamo perché altrimenti ci brucieremo il tempo, via. Partiamo con la rassegna, diciamo la verità, per Dea il canile, in virgola, il rifugio comunale di Albenga è stata una fortuna, perché incontrato voi semplicemente, l'avete ricondizionata, Laura prima che in questa trasmissione non vuole parlare mi diceva Dea è un cane fantastico, va d'accordo con gli altri cani, ha iniziato un elenco di punti di forza, che potrebbero tradursi poi in una bella adozione. Sì, tutte cose positive per Dea direi, no? Lei è arrivata appunto veramente molto magra, poi abbiamo dovuto seguire, insomma fare una serie di indagini per capire il motivo di questa magrezza, poi era probabilmente un'intolleranza alimentare, quindi lei deve mangiare monoproteico, deve fare, insomma avere l'unica sua, se vogliamo, cosa negativa è il fatto che debba seguire una dieta ferma. Quindi diciamo, tra virgolette l'istituto, se vogliamo, le ha dato, comunque le ha ridato la vita, è risorta ed è stato comunque, ed è ancora oggi però, è stato un periodo di ricondizionamento. Sì, lei adesso è pronta per andare in famiglia, perché è un cane buono, è un cane buono con le persone, va a sandare al guenzaglio, ecco con lei diciamo che non ci sarebbero grosse difficoltà con un inserimento in una famiglia, anche con gli altri cani ovviamente da valutare, perché ovviamente ogni inserimento con altri cani va fatto con molta attenzione, che non succedano pasticci o cose irreparabili, però diciamo che tutto sommato è un cane che adesso merita veramente una casa. Il gioco è per noi umani e per loro meno e più cani educativo, oltre che ti fa passare il tempo? Ah beh sì, soprattutto per un cane come Pelù, che è un cane iperattivo, è un cane probabilmente da pastore, ha del border, anche lui, quindi è... Hai visto? Sì. Sei tornato nel box. Certo, è andato a prendersi, è portato via il suo gioco. Recuperato Pelù dal suo box, di fronte alla nostra panchina studio, eccolo, un altro cane, anche perché escono e vogliono correre. Ah sì, beh certo, lui in maniera particolare ha bisogno assolutamente di sfogarsi, infatti Laura lo può confermare, quando è qua è un cane molto agitato, anche nel box gira su se stesso, insomma è un cane che non ha mai pace, in realtà poi quando è fuori è un cane che ha delle potenzialità, è un cane che chiaramente è seguito, non con tutti, sempre con un percorso e con un po' di attenzione può essere un buon compagno di vita. Ribadisco, ascoltate chi i cani li conosce, perché Pelù sicuramente non può essere adatto a chi ha uno stile di vita tranquillo, statico, solo una piccola passeggiata al parco, Pelù ha bisogno di scarpe da ginnastica e il parco qui da attraversare. Sì, allora direi proprio che per Pelù ci vuole una famiglia super dinamica, attiva e non di certo sedentaria, ecco insomma, è comunque responsabile. Dedichiamo ora i prossimi 40 secondi a Ibra, lo possiamo definire un lungo di gente, lui è di casa, è qui da anni, passa in rassegna i box dei suoi amici e? Allora, Ibra è un caso un po' disperato, devo essere sincera, è arrivato qui, era prima in un altro canile dove ha passato veramente tanti anni e quindi lui non è più giovanissimo, adesso è qui con noi da molto tempo e quando è arrivato era molto molto arrabbiato, era un cane, non potevi avvicinarti, non si poteva toccare, adesso diciamo che abbiamo instaurato un bel rapporto, perché poi comunque è un cane molto intelligente, ha imparato subito a fare seduto, ha imparato a dare la zampa, però chiaramente per lui ci vuole veramente una famiglia doc, perché ci vuole una famiglia che venga a conoscerlo, a relazionarsi con lui e poi può anche pensare effettivamente di ritrovarsi con un cane che dà grandi soddisfazioni, però veramente bisogna lavorarci parecchio con lui. Il cane da canile, tra virgolette direi, Ibra? Eh sì, lui è proprio il cane da canile, perché per lui questa è la sua casa, lui è simpatico perché poi se c'è un gioco nell'area sgambo lui non vuole lasciarla agli altri cani, la sotterra e la nasconde, a volte dice dov'è il gioco, c'era una pallina, non c'è più, è perché è passato Ibra. Non invadiamo la privacy di Asso, per alcuni motivi? Asso lo vedete, è una bella stazza e abbiamo deciso di presentarvelo così, dietro, dentro al box, anche se non è bello da vedere così, perché sembra veramente un cane anche più cattivo, aggressivo di quello che in realtà poi non è, chiaramente è un cane con una certa mole, quindi insomma bisogna saperlo gestire, è un cane molto giovane e quindi ancora con tanta vitalità il rischio era che vi saltasse addosso, per farvi le feste probabilmente, però nel dubbio abbiamo pensato alla vostra incolumità, quindi insomma con lui c'è ancora tutto un mondo da scoprire, perché può ancora dare veramente tanto, è un cane che ha più o meno un anno, quindi un cane di questa stazza è ancora effettivamente un cucciolo. Concludiamo con Pachito, il tuo preferito, questo lo sappiamo? Sì, guarda, ormai ho perso le speranze per lui, io continuo a insistere, a fare post per trovargli una casa, anche se per lui questa è la sua casa, abbiamo provato a darlo in adozione un paio di volte, ma vuole tornare qua perché questa è la sua casa, quindi proprio per questo motivo con lui veramente bisogna, bisognerebbe fare un percorso di conoscenza bello lungo, perché per lui questa, lui è lì è contento, lui è lì è felice, sono io che non posso pensare che finisca la sua vita qua, ecco questa è una cosa che mi rattrista molto, è un cane anziano ma con una vitalità, io non l'ho mai visto sdraiato e fermo, adora l'acqua come non so se lo ricordate ma avevamo già fatto dei video con lui in acqua, è agitatissimo e infatti lo vedete che non sta fermo un minuto, ma è un cane veramente anche molto propositivo, lui impara con facilità, lui è proprio una meraviglia secondo me. Il cane anziano vi potrà dare tutto il tempo che gli rimarrà, ma vi darà una montagna di soddisfazioni, vi capirà, trascorrerà il suo tempo con voi. Sì sì sì, io sono sicura che poi in una casa lui si tranquillizzerà anche. Bene, e alcuni piccoli esempi dei cani presenti al municipale di Albenga, non ci sono sempre 40 gradi, speriamo che la temperatura vada a diminuire, grazie, ci rivedremo presto ovviamente. Noi vi aspettiamo, siamo qui e speriamo che qualcuno venga a trovarci e ad adottare. Laura grazie per la tua partecipazione, oggi non ha detto molto, ma parla con i gesti. Perfetto, e la ringraziamo, grazie a tutti i collaboratori del Canile, ovviamente grazie a tutti voi per il tempo che avete dedicato a loro, con la speranza che aumenterà. Buona donazione a tutti, rivediamo i nostri amici. Grazie a tutti i nostri amici. Grazie a tutti i nostri amici. E veniamo ora al ringraziamento nei confronti dei nostri partner che ci hanno aiutato e permesso questa trasferta, innanzitutto la concessionaria DR Autostandard di Torino, che ci ha messo a disposizione questa Evo 5 e direi un SUV intelligente, consumi ridottissimi, spazio, ecco, facile, canile, canile, cane, adozione, casa con la vostra nuova DR. Grazie Autocert Italia, la start-up che certifica gli annunci di auto nuove ed occasioni, proposta dai principali portali web dedicati. Grazie Codecray Ovest per l'aiuto portato ai nostri amici a quattro zampe con donazioni di cibo e supporto economico. Grazie Deutsche Bank Easy negli uffici di Torino, Milano, Cuneo, per il costante e concreto aiuto alla produzione e diffusione delle immagini che permettono di incrementare le nostre adozioni. Grazie AIAV, l'associazione italiana Agenti di Viaggio, che vi aiuterà a trovare la sistemazione più adatta in residence, alberghi, viaggi, per il vostro inseparabile amico, scodinzolante. E grazie all'ultimo sponsor entrato a far parte della nostra trasmissione, si tratta della geleria Ciaudano, di Chieri e di Monte Carlo, che ci seguirà nelle prossime missioni nei canini d'Italia. E un vero grazie di cuore a tutti.